Anticipazioni una vita, trama puntate, lunedì, 27 giugno 2022. Ramon accetta di pronunciare il discorso, per l'inaugurazione della piazza, che porta il nome di suo figlio. Ovviamente, però, Ramon sorprende tutti pronunciando un discorso, pieno di voglia di vendetta per quello che è successo, ed aggressivo nei confronti di tutti. Nel quartiere si parla molto di quanto accaduto, e molti lo ritengono irrispettoso nei confronti del ricordo di Antonito. A Zucena viene lasciata dal suo fidanzato e, almeno apparentemente, Rosina e Hortensia fanno di tutto per confortarla. Le due donne, in realtà, si mettono subito alla ricerca di un corteggiatore, appartenente ad una buona famiglia. Aurelio dice a Valeria che presto riceverà senza dubbio, una lettera di suo marito. La ragazza appare molto convinta di questo, e non smette di sperare. Che Zada, intanto, comincia a mettere in atto il suo piano, chiedendo al suo scagnozzo Luis di rilevare tutte le attività, presenti nel quartiere. Nel frattempo Genoveva, sempre più sospettosa, chiede al suo investigatore Quevas, di scoprire quale legame unisce Aurelio, a David e Valeria. Nel quartiere arriva Fidel, un poliziotto che sembra voler indagare su qualcosa, accaduto nel quartiere e Lolita stringe subito un buon rapporto con lui. Grazie a tutti.